Importante che la partita venga giocata con quello spirito agonistico fondamentale, però comunque è molto importante che ci sia una componente di sportività, anche se è chiaro c'è molta rivalità e questo lo capisco da un certo punto di vista, però è importante non andare oltre. E' evidente che ci tengo che sia una partita di grande sportività, poi i nostri tifosi a volte sono accadute cose, ma reciprocamente, non è che i nostri non sono stati peggio o meno sportivi di altri, per cui secondo me è una cosa generale che deve valere per tutti nel derby in questo caso, ma in tutti i casi in cui ci sono magari tifoserie che hanno rivalità importanti e ce ne sono tante, alcune tifoserie sono gemellate, altre poi invece hanno inimicizia. Secondo me dobbiamo cercare veramente di stemperare come è giusto che sia, perché poi è vero, è bello il fatto della competizione, gli sportori eccetera, però andare oltre è sempre brutto e a volte succedono delle cose che non dovrebbero mai neanche ipotizzarsi in uno stadio, gente che si fa male e che a volte addirittura ci rimette la vita che follia.